come si è? alla santa eh nooo un cazzo di generatore volevo qua ma dai ma com'è tu un alasso qua? dai che cazzo il non pelato di twitch eh? il non pelato di twitch ma il twitch non c'entrava eh devi mettere il biondo il biondo di twitch no non ci stava twitch non sono biondo da vent'anni non eri biondo prima non c'è da quant'è della fila in pratica quando sono venuti in Italia ero biondo vabbè e rubami il posto chi va rosto e perde il posto vado a cercare la rovina nooo porca puttana cosa? che paura mi ha grabato ahahahah t'hai grabato merda qua eh si ma non li stavo neanche facendo il toto in interredio no no la puttana la sua mi ha lasciato mi ha lasciato oh che che mi ha lasciato oh grazie scappa 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 chi è? e quando è male è la la lo spirito vabbè però c'è eh? hit ah sbrigati l'ho messo come subscriber perchè qualcuno lo lo spammava sempre lo spammava troppo e allora si ma scappa si ma scappa signora salpa salpa uh aia salpa quindi ho detto evitiamolo no mortacci ecco no vabbè impossibile come hai fatto? si no no solo su perchè per sentirsi sempre tum 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 e pegati coglionato eeeh porca entendo poi le caglio io per terra almeno farà dai dai questo non ha fatto lei stava lontano da me ferma immobile non mi vedeva ma è arrivata da dietro veniti ti servo io sir ti servo io eeeh eeeh scappa sir ah è lì guarda la zoccola la signorina silvani e quando sta ferma tu non devi correre perchè vedi i graffi per te eh si no stavo immobile stavo eh ma era stavo andando in spazio dove sei ti si cappella beh ma io prima ero ferma ti facevo il totem ma mi ha grabato eh ragazzi eh eh vabbè ma eeeh e vabbè eeeh e dove sei il totem che così mi faccio grabare insieme ah scappa intanto il generatore li faccio e sono morto è stato un piacere ciao io sto provando tutti il totem spetti li faccio dubbio ma si 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 oh dio e tu? nooo mi chio ma dai ma com'è tu un elasto qua dai che cazzo nooo si io pensi che sto detto a fortuna a trovare puttana che fuga manco carljuis ma spero che non sia terra maledetta ciao ciao mi è piaciuto da qualche parte addio puttana porca puttana signora sei pronta per terra maledetta? si 2 1 uuuu grande ti è rimasto male ti è rimasto male? ora però da te se ne vai se ne vai uuuu eeeh vabbè certo uuuu torno a fare il generatore se no si si è infatti è vero è vero metto qui dietro che cazzo è? oh ma sei perso ma che cazzo è uno spirito che si sniperava ma figurati chi è che si sta curando? io eeeh ecco appunto dai vaffan eeeh quando mai? vabbè se ti fai male è ovvio che viene perso di te ue raffan ciao caro come va? ciao raffan mentre che viene per di qua sti no? si si ma ciao te recupero ok grazie ciao bello ciao raffan grazie per essere passato cazzo guarda guarda la terza volta secondo me cazzo di una batolina occhio che è lì cazzo di una batolina cazzo di una batolina cazzo di una batolina cazzo di una batolina occhio che è lì cazzo di una batolina quindi non cazzo di una batolina eeeh in realtà cazzo di una batolina cazzo di una batolina eeeh cazzo di una batolina non ti solleva? vediamo sai che stai venendo dove stai tu? no scalling oh però questa musichetta di sto cazzo di quando sei a terra la potrebbero alterare un po' più si eh, che è un po' bassa è troppo bassa si eh anche quando ti insegui il kill al crossover è giusto lo spirito ci sta ci sta Aya borca 00 00 Chi è che ha usato tutti i miei pallet qua mortacci sua? Oh dieh, oh dieh, oh dieh, oh dieh BrownAA! LOL che v cazzo l'ho trovata anche striscando I Artem striscia, verme non c'è pure l'assunzata di cervi aspetta che facciamo così così non si sentiamo che mando da capo la musica no no io sono una brava persona io sono qui che cazzo picchia subito che cazzo e voglio cliccare aspetta aspetta mannaggia mannaggia almeno il pipozza l'ho fatto l'ho fatto giusto bello bello bellino ragazzi se parte che lui non ha ancora messo il pronto magari fk in partita ma saranno da cagare cagare allora se sei a cinque minuti lo mette in automatico il pronto a cinque minuti cinque secondi eccolo non ti piace la messa no no è troppo esagerante è troppo messa sei calmo ma è stonato le oreggie ma è la messa in piega la messa in culo l'ho messa in culo è arrivato visto godnob un dinamatore mio chi tarda arriva ma l'alloggi ciao 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 è la madonna in coronetta è l'infermiera oh figata ciao bitch ah l'ha pelata killer fra martina e bensì sì 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 è gradevole e gradevole non riesce a beccarti Ma è una minchia questa qui Eh beh Si ma non ha picchiato manco il generatore che stava facendo Eh vabbè Ah adesso c'hai fatto Non lo sa usare sto qui no Oh la faccia di tua dia Oricchione C'hai fatto appresa il mio? Non mi ha perdito Marco stecchino Stecchino Alla vittima ho la t camper Ho la mic face camper questa qua Come nero Sta venendo da avvo che hai fatto il generatore Ma non è che come la carne Sì sì Si Eh Max Il mio generatore Faccio io faccio io Ma qualcuno mi viene a terra giù Vlad vai tu o stai andando? No 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 devo finire quel generatore del cazzo Vado io? Si qualcuno vada Vado io E' ti? Grazie Che stavo nella catapecchia Eh Max sta venendo da te Eh visto Ciao Ciao Una torcia verde Ma non pappo No Cazzo Eh va beh ma allora Arrivo Cristina Arrivo Ciao 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 Ma cazzo! Ma cazzo! Dov'è nato un gen? Ah, in quella baratta in quel coso, in questa... mazione Cazzo! Cazzo! Eh, ma sgamato! Eh, ha due tais, mentre... Eh, lo so Ciccoliamo Dimmi se se ne vamo Aspetta, eh Aspetta, aspetta Ok Sono andata Scappami e prenda Scappami e prenda Ah, sta davanti al capanno, proprio Ah no, quello è Eh... Fa scrivere qualcuno dentro il capallone Uh! Cazzo! Io te l'ho detto che stava intanto Eh, Belin, anche te Sì, ma non lo riesco proprio a finire quello Eh, fregate, se ne è un altro Ma mi piaceva quello Eh, ho capito, però Non mi ha visto No, scusa, eh Ce n'era uno qua Andiamo a fare questo, no? Cazzo! Vedete che io mi curo No Porca la tua Marisa Marisa Sì Oh Ma... Eh, mi sta a prendere, finisci il coso Finisci, sta arrivando da te, sta arrivando da te Occhio, occhio, occhio Eh, ma ora la finisci Eh, ma ora la finisci Viene sempre qua sta merda Tiro giù io la pelata killer, eh Eh dai, fammi finire quella Eh, hai fatto un generatore Un tot e non quello che è Eh, è là, è là Vabbè, io mi faccio questo qua Eh, ma sta bene da te Vadi Grazie, grazie Facciamo questo, no? Eh, vabbè, ma un po' di bloccato Tinta giochiona Eh, quando mai Wow, un cazzo di generatore volevo qua Uh, vieni qua, vieni qua Dove sei? Ah, sei là Eh È un attimo che mi sto recuperando tutto quanto Merda Che poi io mi domando uno come cazzo fa a recuperare da terra E' alto, ti porta miseria Nooo, attento, mi sto... Ok, se no full io Aspetta, eh Aspetta che qua Arrivo io No, ci sono qua io Ma c'è qui Eh, mortacci Dai Thank you Alve 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 Qua è il Terminator Non ho capito cosa c'entra White Canary Ok, buonanotte Godnap Occhio, occhio Ma c'è il migrato vicino alla porta Ma c'è il migrato vicino alla porta No, guarda, guarda No, no, te vaffanculo Lol No No Carca Eh Cos'è la... La terza allucinata? No, la seconda E' fatto il verde Eh, sì, sì, sì C'è tempo, c'è tempo Finito di fare dei gen Eh, guarda, anch'io, guarda No, sta tornando Eh, che palle No Sputtana Che paura Perché sei andato da sopra? Eh Per da perderti tempo, no? Eh, no Cazzo Ah Zucca Oh Capitana Ma dai Eh, no, perché ti sei fatta? Perché pensavo di salvarti Eh, no, ti ho detto che era già la seconda Questa è la terza, no? Cercavo di bloccare l'altro alla porta Via, 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 scappa Minchia, vive Cazzo Dai che sta aprendo la porta Occhio Eh, vabbè, ma il mio tavolo Che cazzo Proprio... No, voi non vado di cistero Lo sta? Eh, chi lo vede? Dove sto io? Eh, sta aprendo la porta Ah Puttana Che paura Ma qualcuno apri questa porta di voi Perchè? Beh, andate veloci Dai, dai, dai Adesso non mi stanno a curare Apriete la porta Que paura Che paura Che paura Ah Corri Dai, 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 dai Nooo Eh, va bene Ma cosa hai, il chambato Fantastico, fantastico c'è un bacio ma proprio ignorate di quelli che non ce n'è è sì e ma c'è la stridore ecco anche a 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